Ciao belli, ben ritrovati in un nuovissimo video sul mio canale a parte le cazzate siamo di nuovo su Valentino Rossi The Game mi raccomando, sostenetemi perché siamo quasi alla fine del mondiale in Moto2, quindi dobbiamo riuscire a fare un bel po' di punti in queste due poche gare ricordatevi quindi di lasciare un bel like alla fine del video se dovesse piacervi, a iscrivervi al mio canale se dovesse interessarvi e a commentare io vi lascio al video e ci vediamo dopo la sigla Ciao! Ok ragazzi siamo di nuovo qua pronti pronti per la gara di Sepang attenzione, mancano due gare abbiamo 40 punti, 34 punti di distacco quindi mi raccomando sostenetemi, andiamo a vedere subito Ok, calendario Sepang, ragazzi, il solito schema ci vediamo per due giri di qualifica, a dopo Ok ragazzi ci siamo facciamo un paio di giri insieme non è che stimo tantissimo sta pista quindi più di così non riesco a scendere però ci proviamo ancora, un attimo, dai poi in più col bagnato, figurati anzi ne facciamo uno solo a giro di qualifica va bene così, tanto ormai sono demoralizzato per il mondiale no, direi che va sicuramente meglio di prima e stare attenti col bagnato poi è un casino attenzione alle ruore vabbè, tanto è un allenamento in più per la pista che sarà veramente un'altra di quelle gare ostiche come Philip Island sfruttiamo tutta la pista e anche più per fare un giro di quantifica decente veramente brutta sta curva vabbè, pazienza ragazzi sono veramente demoralizzato però, pazienza abbiamo portato a fare veramente il nostro best saremo forse quelli che andranno in MotoGP senza mai aver vinto un mondiale visto che ce ne sono un sacco ci saremo anche noi vabbè, niente teniamoci la tredicissima posizione ragazzi torniamo i box velocizziamo vediamo se perdiamo ancora qualcosa giusto perché già che siamo qua sai com'è siamo un secondo eotto direi di no direi che siamo sempre in tredicesima vabbè, dai partiamo in tredicesima continuiamo dai, cerchiamo di fare il nostro meglio che non è ancora finito il mondiale su, gomitate ragazzi gomitate ragazzi 3, 2, 1 via qua bisogna stare all'esterno eh perché tenderanno tutti a chiuderci nell'angolo figurati tornantino secco e infatti, guarda qua dove sono sono 5 e non un fazzoletto cerchiamo di fare un lavoro noi? ce la facciamo? beh, qualcuno l'abbiamo passato ragazzi qualcuno si e qualcuno no dai, va bene quarti sui quarti attenzione l'ha sportellato all'interno all'oebs e mi spingono non ce la fanno essere regolari una gara sti qua l'ho frenati tutti l'ho fatta malissimo quella curva lì lo so che voi direte no ma non si fa così devo proteggere ragazzi mollami che mi fa andare fuori guarda, guarda che maledetti oh ti buttano fuori l'intelligenza artificiale di sto gioco fa schifo come dal 2006 ad oggi cioè tutti i MotoGP tutti oh non ce n'è uno buono però almeno giocabile più degli altri sicuramente questa ho sentito leggermente la gomma davanti fischiare non molliamo ragazzi siamo terzi a secondo giro mi raccomando proviamoci scusa l'ins non l'ho fatta apposta sai zarco se ne va eh ragazzi zarco se ne vuole annà non lo so mica qua come va a finire c'è zarco che vuol prendersi assolutamente nella prima posizione come un po' tutti noi quindi un po' una gara all'ultimo sag guarda come mi passano all'esterno di sta curva ma tremendo non lo so non lo so non lo so non lo so guarda il maledetto di loves ragazzi sta facendo di tutto per farci uscire fuori tremendo ragazzi avete visto come le ultime due gare tre gare siamo tutti lì fino al secondo giro poi l'ultimo giro loro se ne vanno guarda guarda dai vaffanculo 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 mondiale di merda scusate niente lo fanno apposta gli ultimi due giri l'ultimo giro ti fa cadere non c'è verso ma che cazzo voglio fare che merda ragazzi però se siete obiettivi perlomeno siete testimoni anche voi della porcata che è sto gioco l'intelligenza artificiale non ha senso non ha veramente senso se ne vado un affanculo come fai giocare così dai ti passa anche la voglia ma si vaffanculo andiamoci sta gara giusto perché dobbiamo arrivare in fondo se ne vanno la morire ammazzati con i tre froci con tutto rispetto per i froci una partezina con alcune le vani sono finite i box ma si dai arriviamo in fondo a questo questa vergogna la sua puttana Eva dai basta quindi ragazzi io vi ringrazio per aver visto questa merda di video se non vi è piaciuto vi prego di mettere un bel non mi piace iscrivetevi al mio canale se dovessi interessati a mettere dei non mi piace dei video del genere vi ricordo che a questo punto qua vi lascio una playlist dove ci sono altri video in cui magari non finiscono così finiscono anche un po' meglio andate sui social se volete insultarmi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao belli ciao